Simone Di Domenico Antonio, l'unico per ora nuovo acquisto del Campo Basso in attesa che qualcuno ti faccia compagnia. Vieni dal Tolentino, quindi Campo Basso e le Molisane non sono nulla di nuovo per te? No, avendoci giocato l'anno scorso contro so che Campo Basso è una piazza veramente importante e spero di tagliermi grandi soddisfazioni quest'anno qui. Ecco, ci hai detto le tue caratteristiche, fantasia, estro, imprevedibilità, insomma sono le caratteristiche quasi di Francesco Totti, facciamo una battuta. Magari, Totti è il mio idolo però nulla a che vedere. No, per dire non sei stato per niente modesto nella tua descrizione, però aspettiamo di vederti, anzi già ti abbiamo visto all'opera perché hai segnato un gol al Campo Basso, un altro se non erro anche al Vasto Girardi. Sì, ho segnato due gol con il piede sinistro sia a Campo Basso che a Vasto Girardi, speriamo di farli anche a Campo Basso. Ecco, quello ci si aspetta da te, che impressioni hai avuto dal nuovo gruppo? Per te è un gruppo nuovo, per tutti gli altri non lo è perché c'è una base sostanziale di giocatori del passato campionato. Guarda, sono sincero, fin da subito mi sono trovato benissimo con i compagni, non ho nessun problema, mi sto trovando veramente bene. E con l'allenatore? Anche. Marchigiano, quindi lo dovresti conoscere. Sì, 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 so che è marchigiano e avendo giocato lì nelle Marche comunque sia lo conosco e mi ci sto trovando bene anche con lui e società. Quindi l'idea sul Campo Basso te la sei fatta nelle due partite, specialmente quella di Selvapiana, avete perso 4-0 ma al di là del risultato c'era tanta gente quel giorno. Sì, ho capito quanto sia importante per il Campo Basso, per i tifosi del Campo Basso, quanto sia importante. Senti, sei un attaccante o una mezza punta? Ci interessa sapere le tue caratteristiche essenziali. Posso fare sia... Al di là poi degli idoli. Posso fare sia la mezza punta che l'esterno, il trequartista, posso fare molti ruoli lì davanti. Quindi sei un giocatore molto duttile che sa adattarsi diciamo al 4-3-3, al 4-2-3-1. Certo, qualsiasi cosa mi dici di fare il mister faccio. Ti è stato chiesto di vincere al momento della stipula del contratto? Mi hanno chiesto di dimostrare il mio valore e speriamo di dogli alcuni grandi soddisfazioni. Bene, abbiamo parlato con Cogliati, il quale ha detto, sai, prima di firmare la lontananza, lui è di Milano, poteva essere un problema. Tu sei di Roma, non credo che sia così distante da Campo Basso la capitale. Ormai sono sei anni che vivo fuori casa, non ho problemi di alcun tipo.